Volevo ringraziare Diego e Valeria di FED che hanno organizzato questo concerto, ma che sono stati talmente entusiasti del vostro arrivo, che ne hanno organizzato un altro, il 2 di febbraio, torniamo qui! E' stato veramente una gioia suonare per voi questa sera! E grazie anche alla James che sostiene questo teatro meraviglioso dove abbiamo la fortuna di incontrarci! E aspettiamo il 2 febbraio!